Sarà una grande festa dello sport, quella che tra pochi minuti, con il fischio di inizio del signor Schipani di Benevento, andrà in scena allo Stadio Fattori dell'Aquila tra la Gran Sasso Rugby e l'Aquila Rugby Club, valevole per l'ottavo turno di campionato nazionale di Serie A, fase territoriale Girone 4. In via eccezionale l'Aquila andrà infatti in trasferta proprio a casa sua, al Tommaso Fattori. Lo stadio ospiterà l'incontro a causa dei lavori in corso al comunale di Villa Sant'Angelo, sede della Gran Sasso. I neroverdi arrivano al derby di ritorno a un soffio dalla certezza matematica di passare alla pool promozione saldamente in testa alla classifica del Girone 4. La pressione sarà principalmente per la Gran Sasso che vuole vincere per conquistare punti utili per il passaggio al Girone successivo. Dopo la sfida vinta di domenica scorsa contro il Pesaro, per i neroverdi infatti non ci sono particolari problemi di squadra per Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotiglio, lo staff. Il derby Gran Sasso-L'Aquila Rugby sarà comunque per tutti una nuova occasione per vedere sugli spalti tanti appassionati e riuscire a dare lo spettacolo e le emozioni che il pubblico regbistico del capoluogo merita.